Accompagnata dal ballerino Matteo Ciribilli, la tifernate Jessica Spapperi, atleta del Si Balla e Si Danza, si è classificata al primo posto per la sezione Danze Paralimpiche in carrozzina ai campionati italiani promossi a Rimini dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e in corso in questi giorni. A darne notizia sono i responsabili dell'associazione sportiva Matteo Bologni e Daniela Chiaserini, già campioni del mondo nel 2021, i quali da circa un anno hanno avviato dei percorsi di formazione sportiva con un apposito metodo per le danze paralimpiche. I limiti esistono solo nella nostra mente, hanno commentato a caldo i titolari della scuola di ballo, emozionati per il risultato di due ballerini, per l'ammirazione che hanno saputo suscitare tra la giuria e il pubblico, sia per la loro bravura e la loro sintonia, sia per la bellissima presenza della loro giovane atleta. Siamo molto felici, hanno affermato ancora i due, perché questo risultato testimonia non solo la preparazione tecnica dei nostri professionisti e la validità del nostro metodo, ma anche l'atmosfera che regna nella nostra scuola. Jessica, hanno detto ancora, ha trovato da subito un ambiente che l'ha ammirata e presa da esempio. adulto e bambini della nostra scuola vivono con entusiastica partecipazione tutte le fasi dell'allenamento e della gara della nostra atleta. Anche Matteo Ciribilli, hanno aggiunto, è uno dei nostri fiori all'occhiello, atleta di danze standard e di danze latinoamericane, e già partecipa a gare di standard e di latini con la sua ballerina, che è anche sua moglie.